Con i soldi di papà. La noia ci circondava. Con i soldi di papà comprai una spider e dissi al mio amico, guida, per Dio, sta attento a dove vai. La spider era docile ed eravamo contenti. Volevamo andarcene senza scampo. Non sapevamo da dove andare via. Attento coglione che vai a sbattere. Il mio amico faceva il gradasso. Guardavamo dal basso i tir enormi come i castelli che ci suonavano maledicendoci. Arrivamo fino in Germania. Dopo un mese tornammo stanchi e sfigati. Poi i capitomboli del destino mi hanno mandato a gambe per aria parecchie volte. Perché? Commento. E perché no? Tu dove ti sei reincarnato? Non vedi la fatica di vivere di tanta gente? Non calcoli come è denso di materia il tuo corpo? Non ti rendi conto che viene orora dal mondo animale? Che cosa ti aspetti? a a a a a a Grazie a tutti